Ciao a tutti ragazzi da MrQuizzo99 e benvenuti in un nuovo video quest'oggi vi farò vedere come ottenere crediti infiniti in tutte le applicazioni Android in quasi tutte le applicazioni Android questo perchè? perchè le applicazioni che richiedono una connessione costante al server come potrebbe essere, mi faccio un esempio, Clash of Clans oppure, un attimo che non la trovo più Drag Racing, no Drag Racing funziona Nitro Nation che sono perennemente connessi a un server ovviamente questi trucchi non funzionano perchè il server rileva subito queste modifiche però su tutte le altre gioche, come potete vedere, su tutti quegli altri giochi qua funzionano dunque, queste applicazioni sono tre Freedom, Market Unlocker e Volendo Game Killer perchè volendo? perchè in genere basta anche solo Freedom questa qua allora vi lascerò il link di tutte e tre le applicazioni e iniziamo con Market Unlocker Market Unlocker si aprirà e, ah premetto che bisogna avere i permessi di root e vi consiglio di, adesso vi lascio il link qui in alto per andare a vedere il mio video dove spiego come metterli Market Unlocker si aprirà con qua scritto dove c'è scritto Enable Unlocker USA noi facciamo uno swipe verso sinistra e vediamo che ci sono tutte le nazioni del mondo ora andiamo fino in fondo e saliamo fino a trovare un attimo la Russia una volta trovata RussianMTS25001 la premiamo vedete che escono i permessi e ci dirà che è stato configurato correttamente e vi uscirà MTS russo tranquilli non c'è problema per ritornare sull'Italia non basterà fare off perfetto una volta configurato scaricheremo Freedom e lo apriamo perchè bisogna settare il Market in russo perchè Freedom è un'applicazione creata in Russia e non funziona negli altri paesi ora apriamo un'applicazione facciamo Mini Motor un attimo che giro il telefono spero si veda bene abbastanza bene comunque non dovremo giocarci quindi per adesso vi faccio vedere solo che funziona ok facciamo carriera e vedete che qua in basso io ho già un milione ora ve la vicino un milione setecentotredicimila cento settantacinque se io però vado sullo store e ne voglio un altro milione facciamo prendo il più grande quella cosa di più per un totale di esattamente dodici euro come potete vedere vi uscirà FreeCard invece della vostra carta FreeCard XXX eccetera un codice facciamo clic su acquista pagamento riuscito come potete vedere adesso sono 2 milioni ve lo faccio ancora una volta proprio per essere sicuri acquista ora sono 3 milioni e possiamo avere accesso a tutte le macchine che vogliamo guardate ah ecco ve lo dimostro proprio anche comprando perché a volte ho visto mi è capitato ancora di vedere video dove praticamente non facciamo vedere che salivano i soldi ma alla fine non funzionavano ora ho premuto su compra e compriamolo ora ho per esempio questa jeep la selezioniamo e la potenziamo anche per far vedere che posso spendere i soldi perfetto perfetto ora torniamo alla nostra interfaccia alla nostra home perfetto la seconda applicazione è game killer perché in alcuni casi freedom non funziona ora quando noi apriremo game killer ci uscirà questa schermata qui come vedete una doppia interfaccia premiamo il tasto qui in alto guardate quello piccolino qui in alto e potremo usare il telefono con questa piccola icona mobile sullo sfondo perfetto ora apriamo facciamo tempo run aspettiamo aspettiamo che carichi ok perfetto andiamo in menu mi sembra come cacchio si faceva no ho sbagliato vabbè aspettate che mi suicido vabbè come se già ho uno degli ultimi giocatori ok sono morto facciamo skip menu ok allora aspettate non mi ricordo mai mi sembra store ah no come potete vedere guardate quanti crediti ho 360.247.572 ora noi andremo a scrivere bisogna fare così in un attimo questa qua bisogna premere questo e fare select application queste sono tutte le applicazioni che abbiamo aperto facciamo tempo run per essere sicuri questo si ricollega diciamo a cheat engine che è quello per il computer invece mettiamo la nostra cifra 360.270.000 247.572 poi ognuno mette la sua e facciamo cerca e premiamo di word perfetto me ne trovate 5 in genere se ve ne trovate tantissime perché può capitare che trovi 2000 risultati voi rimpicciolite così ne spendete un po' adesso vediamo se posso spendere perché avevo già mi sembra potenziato tutto vediamo posso forse no forse posso ah si vediamo questa qua compriamo questa vedete che sono scesi a 360.000 a 147 360.000 a 147.000 perfetto le abilità sono già tutte modificate ora facciamo riscriviamo il numero invece dopo averli spesi quindi 360.000 come potete vedere a me lo trovo già perché non ce ne sono molti di numeri ovviamente voi riscrivete il numero dopo aver speso i soldi quindi fate la differenza ci cliccate sopra voi avete mettiamo un valore basso di 50 200 quello che premete un numero che volete proviamo così spero funzioni ok salva ok adesso qua mi sembra aggiornarsi esatto vedete io ho premuto 9 il massimo è un miliardo 410 10.065.407 che insomma non ci sputerei sopra quindi come potete vedere funzionano ok li spendo anche giusto per far vedere che funzionano anche questi mi suicido questo non l'ho mai visto muori ok sta adesso mi suicido sarà un modo per morire ok ok menu ok niente questo era un tutorial quindi perfetto come potete vedere ci sono ancora tutti i soldi e torniamo alla nostra home per chiuderlo basterà tirare giù la tendina tenere premuto su game killer anzi scusate premere una volta su game killer e fare termina ok come potete vedere ora sarà scomparso perfetto da mrquiz99 è tutto ciao e a un prossimo video grazie grazie